In caso il tuo nome venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, cominciai così in terra. Sareggiori il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal pane. Sareggiori il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimetti a noi i nostri debiti, Sareggiori il nostro pane quotidiano e rimetti a noi. Sareggiori il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche 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 noi i nostri debiti, come 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 noi i nostri Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.